Buona giornata, appassionati di criptovalute. Sono entusiasta di parlare con tutti voi di una straordinaria piattaforma di trading di criptovalute che ha fatto scalpore di recente. Ma prima, per favore, fammi un favore, premi il pulsante di iscrizione e suona il campanello, non vorrai perderti nessuno dei miei futuri consigli e approfondimenti sulle criptovalute, vero? Va bene, tuffiamoli. Sappiamo tutti che il trading di criptovalute è una vera avventura. I mercati non dormono mai, ci sono più monete di quante tu possa contarne e cercare di rimanere aggiornato può essere travolgente, soprattutto se sei nuovo in questo campo. Ma non preoccuparti, perché ho la soluzione perfetta per te. Una piattaforma di trading di criptovalute come BitMaxer. Questo assistente al trading basato sull'intelligenza artificiale è un vero e proprio punto di svolta. Non è uno strumento di trading automatico qualsiasi, è come avere il tuo mentore criptografico personale, che ti aiuta a perfezionare le tue strategie e ottenere approfondimenti semplicemente straordinari. Ora, per quelli di voi che hanno sentito parlare di BitMaxer e non vedono l'ora di iniziare, ho alcune notizie entusiasmanti. Stanno offrendo una registrazione gratuita per un periodo limitato, ma ci sono solo 300 posti disponibili. Se sei pronto per entrare, ho inserito il collegamento ufficiale nella descrizione seguente. Basta fare click, registrarsi e sei pronto per partire. Ma ragazzi, aspettate un secondo. Anche se hai già familiarità con BitMaxer, ti consiglio vivamente di restare per il video completo. Analizzerò alcune caratteristiche chiave e suggerimenti che potrebbero davvero migliorare il tuo gioco di trading. Credimi, non vorrai perderti quello che succederà dopo. Allora, cosa distingue BitMaxer? Innanzitutto, è incredibilmente facile da usare. Stiamo parlando di un'interfaccia elegante che funziona su qualsiasi dispositivo ed è basata sul web, quindi puoi accedervi ovunque ci sia una connessione internet. Ma non è solo esteticamente gradevole, questo robot è anche eccezionalmente intelligente. Utilizza algoritmi e tecnologie AI avanzati per analizzare i mercati, identificare le tendenze e fornirti analisi dettagliate per ottimizzare il tuo gioco di trading. Ed ecco la parte migliore, si adatta al tuo livello di abilità, che tu sia un principiante assoluto o un esperto di trading esperto. Le impostazioni sono completamente personalizzabili e puoi anche testare le cose senza rischi in modalità demo prima di andare in diretta. Ma questa non è nemmeno la parte migliore. BitMaxer supporta tutte le principali criptovalute che conosci e ami. Bitcoin, Ethereum, Ripple, eccetera. Registrare un account con BitMaxer è un gioco da ragazzi. Basta andare sul loro sito web, creare un account compilando i dettagli come nome, ID e-mail, numero di contatto, che richiede circa due minuti, depositare almeno 250 euro per finanziare il tuo account e sei pronto per partire. Non sono previste commissioni di deposito o prelievo e hai il controllo completo sui tuoi fondi in ogni momento. Offrono una sicurezza di primo ordine con criptografia avanzata e puoi effettuare pagamenti nel modo che preferisci, debito, credito, criptovaluta, la scelta è tua. Ora, prima di lasciarvi andare, devo darvi un amichevole avvertimento. Come con qualsiasi strumento o piattaforma di trading popolare, ci sono sicuramente alcuni loschi imitatori e truffatori che cercano di trarre profitto da questa pubblicità. Ho visto spuntare fuori un sacco di falsi cloni di BitMaxer, che promettono al mondo ma in realtà cercano solo di ingannarti con i tuoi sudati guadagni. Ascolta, fam, non, ripeto, non cadere in nessuna di queste truffe. Non valgono il rischio o il mal di testa. L'unica fonte legittima per BitMaxer è il sito web ufficiale ed è meglio credere che inserisco quel collegamento nella descrizione seguente. Usa quel collegamento e solo quel collegamento per creare il tuo account. Non lasciare che questi truffatori ti rovinino la festa. Una volta che tutto è pronto, di semplicemente al bot di quale livello di assistenza hai bisogno e lascia che faccia la sua magia, analizzando i mercati, eseguendo operazioni e offrendoti un vantaggio significativo con tutti i suoi strumenti di analisi. Questa piattaforma è un punto di svolta totale, che tu sia un novellino delle criptovalute o un professionista del trading esperto. Allora, sei pronto a realizzare dei profitti seri con esso? Clicca sul link nella descrizione qui sotto e inizia a fare trading adesso. Lascia un commento qui sotto se hai domande, premi il pulsante mi piace per mostrare un po' di affetto e preparati a vedere arrivare profitti impressionanti. Grazie per la visione e ci vediamo al prossimo video. Resta sintonizzato, arrivederci.